Con Salvini va d'accordo solo su una cosa, che Salva Roma non deve essere solamente per una sola città, perché ci sono tanti comuni in difficoltà e non c'è stato il Salva Napoli. Abbiamo detto una settimana fa, è chiaro che adesso Salvini si inserisce nella polemica interna al governo e quindi diventa all'improvviso difensore dei comuni, ma a noi sta bene se il governo finalmente si accorge che non esiste solo la capitale perché magari la sindaca fa parte di un partito, ma esistono i comuni italiani, alcuni dei quali soprattutto al sud da anni, nonostante i governi da soli, si stanno riscattando con tagli anche economici e finanziari molto duri. Quindi credo che il governo debba intervenire su tutti gli enti locali con delle specifiche misure a seconda delle esigenze e non pensare solamente per la terza volta consecutiva a Roma. Tra l'altro, e chiudo, Napoli in più ha un debito che non hanno mai contratti i napoletani e il debito storico che hanno contratti i governi con il terremoto e con l'emergenza rifiuti.